Pa 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 pa, scriviamo uno stato su Facebook Steph, dovresti nasconderti, non puoi scrivere stati su Facebook adesso Perché? Dai, poi oltretutto quel piccio è troppo grande per te, neanche ti stanno le mani Non è vero, guarda, con i piedi si scrive benissimo, guarda, guarda che bella frase che sto scrivendo Hai scritto B, 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 tutte le lettere che non si capisce nulla Non è per niente vero, ho scritto la Divina Commedia, cara E ragazzi, come va? Io sono Feriniki E io sono Steph, e che seggi che è Magimod? E siamo tornati qui con un nuovo episodio dell'Aid and Seek, ovvero il nascondino E oggi siamo in una mappa davvero particolare perché è davvero carina e strapiena di giocattoli L'ha trovata Feriniki, quindi fate i complimenti a lei, devo essere sincera, è stata bravissima a trovarla Guardate che meraviglia, noi siamo piccoli piccoli piccoli, la mappa è gigantesca Ed è pieno di giocattoli sparsi in giro, sembra la mia cameretta quando avevo sei anni, devo essere sincero Ma anche adesso No dai, non è così Più o meno, con videogiochi Adesso ci sono i calzini e i videogiochi, prima c'erano i giocattoli Esatto E quindi, oggi ci nasconderemo in questa mappa, è piccolina se vedete la stanza Ma in realtà, secondo me è la mappa dove abbiamo più nascondigli da poter utilizzare Perché tutti i cassetti, tutte le cose che vedete, ci si può nascondere E oltretutto, lo vedrete ma lo anticipo, è strapiena di passaggi segreti Quindi per quello ci sarà da divertirsi Quindi iniziamo Non so dove sono Sono in uno dei passaggi segreti che ho nominato Ecco, quelli sono i passaggi segreti, praticamente collegano tutte le pareti a tutti i cassetti Quindi puoi arrivare da una parte all'altra della stanza, tutto con quei passaggini, è bellissimo Ma io sono in una costruzione Lego, ma che meraviglia che è Allora, super fantastico, ma dobbiamo trovare Ferenichi Quindi smettiamo di apprezzare già la mappa e concentriamoci Che altrimenti qua siamo fregati Fere? Sei qui sotto? Fere? Fai un cenno se ci sei Non lo so, in realtà neanche ti vedo da qui Eh, dico tutti così, certo, certo Perché se mi muovo ho paura di sbucare troppo Quindi dovrei Dovrei Ok Ciao Fere Come stai oggi? Non ho senso Allora, tutti nei commenti si lamentano che le parti in cui io cerco sono troppe poche nel video Ma non è colpa mia, è colpa di Ferenichi che con lei da cercare Allora, io devo dire una cosa che potrà sembrare surreale Perché davvero sembra una cosa che non è vera Praticamente io in qualsiasi posto mi nascondo Steph mi trova Cioè, anche adesso la prima parte che ha cercato è lì sotto Perché non partire tipo da sopra? Perché non partire dall'altra parte della stanza? No, è stato il primo luogo che ha visto Non è colpa mia No, è ridicola Fere? No, è ridicola Che il radar anti Ferenichi Cioè, io non la so questa cosa, non la capisco Ti inizio a cercare, hai fatto? No, non proprio Dai, muoviti, ti do un altro pochettino Oddio Le seconde erano le mie ossa No, le sentite bene Ha fatto malissimo, Fere Tristissima Ma no, 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 dai No, sei cattivo Vedrai che... Almeno fai finta Allora, tu devi fare così Sì Quando pensi di andare in una direzione, scegli quella opposta Così Ma non me funziona Vada pure, Fere, vada pure Ok Mi sono nascosto, mi sono nascosto Allora, mi abbasso Resto qua perfettamente al buio E spero che Ferenichi non mi trovi Ti sembra un buon posto questo? Tanto che critichi i miei? Fere Ti sembra un buon posto? No, basta, guarda, me ne vado Me ne vado Mi hai scocciato Ci hai messo quattro minuti a trovarmi Certo che ci hai messo quattro minuti Sono andata nei meandri della mappa Sotto, sopra A cercare in qualsiasi posto E lì nel posto più banale di tutta la mappa Cioè come se mi nascondessi dentro questa casetta Lego Ah, perché lì non era banale Che sei banalissimo Sotto alla scarpierina, capito? Sei banale Sei banale, non mi piaci Quattro minuti per trovarmi Quindi critica quanto vuoi Certo, ma è normale Cioè perché io te l'ho detto Ti penso più intelligente Invece non lo sei Esatto, esatto E quella è la tattica Io faccio l'intelligente Che fa finta di non essere intelligente Che poi è di nuovo intelligente E poi non lo hai di nuovo Ho capito? Non ci ho capito nulla Esatto, è per quello Infatti ora ti ho confuso Ti sei nascosta male E ora ti ritrovo Ah, guarda Qua c'è pure l'iPad Ah, l'ho visto, sì Se mi stanco del Mac Uh, che appabbiamo Peccato non poterle usare C'è Crash Royale Sarebbe bello Non è installato nulla questo criminale Ma che iPad è? Ma per caso da queste parti C'è una certa afferenichi? Eh? Allora ti dico una cosa Sì, sì Tu sei sponato proprio da qui Ok Cioè è stato il primo cosa che hai fatto Hai guardato in questa stanza E non mi hai visto Ah, sì? Sei passato poi di nuovo Aspetta, no, non ci tocchiamo Eh, ci siamo toccati Dicevo, sei passato di nuovo Da questa parte Così, in questa direzione Tipo tre volte Non mi hai visto Mi hai visto solo all'ultimo Quando hai fatto il giro Dall'altra parte Sei stata brava allora Sì, ci hai messo un sacco di tempo Trovarmi Infatti, cinque minuti Sei stata brava Sei stata brava La 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 Innaffiamo il mio prato Cosa stai dicendo? Sistemiamo il tetto Della casa tutta rotta Oddio Ciao Ho visto la tua scia adesso Ciao Non ti avvicinare Non ti avvicinare Eh, io non mi avvicino Sei tu che non devi venire a casa mia E non ti voglio Hai capito? Mi spieghi cosa stai facendo Cioè ti dovresti nascondere Ti trovo qui in bella vista A mettere i fiori nel soffitto Cioè che stai facendo? Questa è la mia casa E non voglio nessun vicino io Nessun vicino spione O fastidioso Quindi per favore Vai a giocare da un'altra parte Aspetta, aspetta Il vicino perfetto per te Che secondo me ti piacerà un sacco Sei pronto? Che cos'è? Dimmi che non sono identici Fede Sono un pistacchio Fede, perché sei diventato un pistacchio basso? Però Me lo spieghi? Abbiamo gli stessi buffi Quindi possiamo essere i migliori amici di buffi No, no Sì, no, no Scrivete nei commenti che buffi preferite Perché secondo me è una bella fila Quelli del pistacchio Del pistacchio per i nichi Però quelli di Yellow Neighbor sono un po' più precisi Un po' più sofisticati secondo me Visto che il mio pistacchio bellissimo non ti è piaciuto Sì? Io mi trasformo in qualcosa che ti farà sicuramente paura Che cos'è? L'FBI Vabbè Perché tu sei un vicino malefico e cattivo Quindi sono pronta ad arrestarti Sei chi non ha paura dell'FBI? Di squali Vieni a combattere Ma arrivo Dai E sfidami Ci spacchiamo la faccia qui E sfidami Ci spacchiamo la faccia Mi è reso rosso Maleducata Fede Dove sei finita? Eh, chi lo sa Chi lo sa Però sono molto fiera di questa nascondiglia Te lo dico sì Secondo me è molto Sei dietro di me? Sì Perché sei già dietro di me? Allora mi spieghi cosa stai facendo La P di pistacchio Sono diventato un tasto E ovviamente ho scelto la P di pistacchio Allora guarda la skin che ho Leggi cosa c'è scritto nel torso Mi devo girare Sì Ok Leggi No Indovina cosa devo mangiare Fere Fere indovina Lasciami in pace Lasciami in pace Fere Vado ovunque Non ho ancora pranzato Ho un po' di voglia di pistacchio Sono più bassa di te Mi posso nascondere ovunque Vieni qui Lasciami in pace Vieni Fere I pistacchi non sono buoni Te lo assicuro Sono buonissimi i pistacchi No no Mi sono incastrata Non mi seguire Che mi fai troppa paura Mi è troppo No fai che mi rinascondo serio Perché qua ci siamo messi a trollare Ma io voglio fare le cose serie E belle Quindi vado a cercare un super nascondiglio E vediamo se riesci a trovarmi di nuovo Vai pure Fere Ok Vediamo se riesci a trovarmi Questo è un nascondiglio serio Fere Fere Non è come sembra Il mio silenzio ti ha già fatto capire tutto Fere Ok Non è come sembra Mi stavo riscaldando Fere Ma se poi sono sponata lì dietro Cioè almeno vai dall'altra parte Ero lì È la prima cosa che ho visto Quando mi sono girata Dai perdonami No Spero che mi mimetizzassi Lasci la scia Cioè io te lo dico Lasci la scia Tre minuti meno Però è davvero bello Ne vale la pena Ho capito Ma ho solo tre minuti per trovarti Cara mia Bene in caso ti do il meta round prossimo Quindi Eh certo Non rompere e muoviti Non hai il radar antiferinichi Sfruttalo e trovami Non funziona quando hai messo sotto pressione Fere Cioè mi stai lasciando tre minuti Allora ti metto sempre ansia Cioè mi sa che funziona così Ti metto sempre ansia È una cosa bellissima Guarda qua non ci sei Dai dammi un indizio Dammi un indizio Feda brava Tipo? Eh non lo so Qualcosa che mi fa capire Dove potresti essere O dove potresti non essere Non so cosa dirti per fartelo capire Wow Allora Sì Sono diventato un oggetto Dell'arredamento Un oggetto dell'arredamento E come diavolo hai fatto? Con che skin l'hai fatta questa cosa? È una skin che ci sta davvero bene Per questo tipo di Diciamo che sembra un giocattolo Ok? Ah Guarda ma ti ho visto a distanza Fere Ma non è possibile Scusi Sennò non ci credo Ma così tanto Cioè sono andata anche in fondo Porca miseria Qui c'è il muro Ho detto faccio il pupazzo In una casa di giocattoli Mi sembra giustissimo Mi sembra un nascondiglio perfetto E come hai fatto a vedermi dall'ingiore Fere Non la so Cioè io mi sono girato E riattivato il radar Cioè è così invisibile Appena dato l'indizio Mi è passata l'ansia E riattivato il radar Secondo me Non c'è altre spiegazioni Più che altro Mi ammazzo C'è una cosa Non so come ci si arriva lì Quindi Ah io vi sono lanciata da sopra Ah ok Secondo me Non mi trovi neanche in 15 minuti adesso Vedremo Vedremo Mimetizzato e nascosto allo stesso tempo Ho fatto proprio Combinato due cose E un nascondiglio buono Sono pure mimetizzato Quindi anche se lo trovi Secondo me mi passi davanti Tic tac Dai smettila Non mi mettere ansia Non mi mettere ansia Il tempo sta passando E Ferenichi Non mi trova Mancano ancora Tre minuti e mezzo Vediamo se mi trova O se si subisce una canzone Che dura tre minuti Ti prego basta Ti prego E le fa la testa melone Basta dai Stavi andando così bene In questi video Che non stavi più cantando E rovinato tutto Perché mi sto esercitando Fuori dei video Sto iniziando a fare i canti Tipo Ma non è vero Te lo stai inventando Non è vero che li fai Un cantante professionista Non è vero che li fai Così ti mollo Con questo dannato canale E vado a fare solo Sanremo Per riscoperti in che zona sono E mancano 25 secondi Dobbiamo sperare Che non mi trovi Ma dai Non mi hai neanche visto No ti ho visto Perché praticamente Ho notato che c'era qualcosa Che non andava nella texture del legno Ho capito Ho detto Però era geniale Bellissimo Mi hai fatto sudare fino alla fine È stato davvero bello Mancavano 10 secondi È stato davvero bello Mi è piaciuto un sacco Comunque ha capito che Ero lì perché mi ha visto Che la guardavo un po' troppo Con lo schermo Ho detto Sono in quella zona Vabbè però Se fossi stato zitto Scusa Sarebbe andata via Sta nelle abilità di chi si nasconde Non farsi trovare Non far notare Neanche con lo sguardo Dove è finito Diciamo che sta In chi si nasconde Far vedere il nascondiglio Per vantarsi Quindi mi sono fatto trovare apposta Per vantarmi del mio super nascondiglio Ok Devo finire un attimo Aspetto Va bene Andare un po' Vada Eh sì Sono già partito cara Non c'è bisogno Mi trovi Mi cerchi Eh no ma Non è la mia abilità principale È un nascondiglio terribile Te lo dico È davvero bello Sì ma Io faccio un altro lavoro Cioè Sono un cuoco Perché adesso ti sei messo la skin da qua Eh perché mi piace cucinare le pietanze Allora vai a cucinare qualcosa E mi lasci qui in pace e vinco No no Perché devo trovare un cliente a cui cucinare Quindi adesso io la trovo No no mi piace il cibo Grazie È molto gentile No no Soprattutto quello cucinato dalle non mi interessa Come cucino io non cucino a nessuno Fede Non lo metto in dubbio Ok Non lo metto Ma in senso negativo Non positivo È proprio negativissimo Mi scusi Mi scusi Dai Venga qui Venga qui Qual è il suo nascondiglio Me lo dica Su forza No allora mi dovrà attirare con qualche prelibatezza Cosa mi propone Allora Le propongo Dai dai Voglio sentire cosa sta cucinare Jackie Arrostiti Al punto giusto Ma qui siamo su pochion punch Allora Esatto Bravissima L'ha capito subito Non in questo gioco No grazie Non mi interessano i Jackie Arrosto Ma li ha mai assaggiati No preferisco Rimani Una cosa è classica Non mi piacciono gli animali Arrosto Grazie E allora Ciliegine Fatte Fritte Condite con un po' di ketchup Mi stai diventando americano Che fanno tutte Che mettono al posto del sugo il ketchup Non ti ho detto la pizza all'ananas Stai calma E più o meno siamo lì Guarda La pizza non si tocca Fai la pizza alle ciliegine Diventa un altro nuovo must In tutta America Dovrei provarci Magari divento ricco Sì 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 Finalmente ho trovato un cliente A cui vendere il mio cibo Sai chi è? No non lo voglio Non lo voglio Guardate deve essere nascosta E beh perché ho pensato Chi è che guarda sotto la strada E di fatto mancano 50 secondi Cioè Non ti fossi distratto E avessi girato in tutta la mappa Avrei vinto Cioè perché di solito guardi Nascondigli più fighi Chi è che si immagina Che uno se ne va qui sotto Oltretutto Oh cavolo sono caduta Mi sono messa proprio Ho capito Jack Skeletron Perché ho detto Con i colori è simile a una strada C'hai provato Sono ancora più mimetizzata Hai provato ad avere la gloria Della vittoria Ma ti è andata male Allora cosa vuoi che ti cucino Dimmi Dimmi Vuoi Cosa vuoi Una torta Ma gli scheletri mangiano Sì Non voglio essere E devo un po' ingrassare Non voglio essere volgare Non mi vede che sono un po' troppo magro Quindi devo un pochettino Eh ma doveva finire Mettere su qualche chilo Cioè mangi e non casca subito No 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 E allora E come fai È tutto a posto Ok e quindi cosa ti piace Le torte Le torte Sì Allora Mi faccio un esempio Una torta alle fragole Una torta alle fragole Ok mi seguo Venga 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 com'è È finito Ma dai Cioè ora che mi stavo finalmente Portando i dolci Che era l'unica cosa che mi interessa Mi dispiace È finita la mia giornata lavorativa Rivederla No Mi dispiace Perché mi deve dare la torta Vado Brutto imbroglione Comunque ci fermiamo così Per questo video Come sempre I nascondini non sono molto convenzionali Mappa davvero bella Per nascondersi È stata divertentissima Piccola ma piena di nascondini Esatto Per il guest 1 Non credo sia data Perché secondo me Gli NPC si flippano malamente Quindi nel caso La riutilizzeremo Per un'altra volta Nascondino In futuro Fateci sapere nei commenti E con il sondaggio Se vi è piaciuto Ovviamente lasciate tanti likes E ci fermiamo così Però che ci riesce così Se giù già Scieteci per like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi gli altri figioni Ciao Alla prossima Ciao Ciao